Perché se raggiungiamo 5.000 like al suo video e 15.000 like a questo video, caro Alessio mi devo fare un bel regalino Mamma mia Guarda che Sergio è un ribello Che ribello ragazzi Oh ma che è la scatola lì? Dov'è? Ma che stai a dire? Ragazzi, una scatola di gusci lasciù Vedi c'è una scatola di gusci, zio C'è una scatola di gusci Stai viola Prendi la sussu No Raga abbiamo trovato una busta gusci Devi buttare il telefono Ragazzi sta rubata Oggi ragazzi siamo qui per fare qualche musical.ly Tipo al pincio Quindi niente perché ormai io e It's Me D'Anno siamo due muser Vi lascio il nick qua Seguireci Raga ogni tanto Alessio ha certi attacchi veramente pazzeschi Di non so cosa Si ferma e comincia a inquadrare i muri Comunque raga i taxi qua a Roma Credo che ne è in favore Mi compri un portafoglio Per i portafogli da uomo No diciamo quelli là se ci sono Quelli anche per le monete Per le monete anche si possono mettere direttamente le monete Grazie Arrivederci Regala Alessio non so dove sia andato Noi abbiamo preso Lui scritto Cioè apri A vedere che essenzialmente l'abbiamo comprato davvero Wow Aspetta dobbiamo mettere il guantino Il guantino vai Ok Ok Ma tanto non l'ho comprato io quindi Io non ho speso Quanto hai pagato? Quattro Non ho speso quattro biotte per comprarlo Io non ho speso niente Un po' caduto Sì Però Brava sì ti hai fatto un benissimo regalo Abbiamo visto Alessio Milano che sta lì Che sta ridendo Sta ridendo da solo perché ancora non ci crede Comunque andiamo Guarda chi è l'ha comprato Chi è il dico qua Guarda Chi è? Chi è? Allora ragà prima Prima gli ho detto che è un regalo di YouTube Quindi che ti sei comprata? Che mi sono comprato? L'ho comprato a te Sono le 5 Ho fatto tutta la registrazione dentro Sono le 5.42 Non mi avevo fatto strada Tu te ne esci dicendomi che è un regalo per voi Certo Ti è Non so come volevi Ti ricordo che Sono ricca CUP Sì ragà Comunque questa è la reaction più brutta che abbia mai visto Perché è finto No Aprilo La reazione brutta è finto Aprilo C'è quale per me Manca buttarla Ma è finto Vai Se è vero Mi devi un regalo Te lo dico Promesso Cioè veramente È finto Dai Lente non ti emozionare Dai Due spiccetti A pesare il banglatino qua dietro È falso Sì sì Poi addi Entravo Io lo dimo Annusa Tattiche Fammi sentire Fammi sentire Ma sta seria Certo Certo L'ho detto È finto No Ok sì sì È vero È vero Ma è vero Però adesso dite sì Ti ho detto che è vero No non è È finto Io l'ho detto che è vero Me l'hanno rubato Hai detto Voglio un portafoglio Io ok Ma sei seria Sì Adesso dite sì Amica Fatti rubare anche lo zainetto Così ti compri un zaino gucci No no Io ti ho insultato tantissimo Come? Ora la rigambo il portafoglio Ragazzi dovete andare a lasciare like al video di Alessio Che sta il link qui sotto in descrizione È finto raga è falso Non lo fate Sta qui sotto in descrizione ragazzi Mi raccomando Si arriva a 5.000 like E questo video invece Aggiunge i 15.000 Alessio mi deve fare anche lui un regalo Qualsiasi negozio Di lusso Perché anche lui Cioè io sono diventata povera Per fargli questo foto Adesso pure lui deve diventare povera Probabile che Diciamo che mi sono dimenticata di fare l'outro Perché in quel momento era tipo un momento di Wow mio dio grazie Tutto sclero E quindi ci siamo assolutamente dimenticati di fare l'outro Comunque per prima cosa vi lascio il link Qui sotto in descrizione Proprio il primo link che trovate Della reazione di Alessio Perché come avete visto nel video Alessio stava registrando tutto Quindi mi raccomandate a vedere immediatamente la sua reazione Perché se raggiungiamo 5.000 like al suo video E 15.000 like a questo video Caro Alessio mi deve fare un bel regalino Vi ricordo di seguire la nostra pagina ufficiale Stivestio Official Nick qua E link in descrizione I primi due link sono del video di Alessio E della nostra fantastica page Che il Sivestio Team ragazzi regna Detto questo niente Vi mando un bacione Seguimi su tutti quanti i miei social network Questo è essenziale E io il grande Alessandro Stavo titolando Non mi calcolo Alle 7.02 del mattino Mandiamo un felice buongiorno E niente Vi ringraziamo anche per aver visto questo video fino alla fine Un bacione E niente Bella Sandrone saluta con le mani Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.